Arriva anche dal sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il sostegno all'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle per chiedere che il fondo per i risparmiatori venga esteso anche agli obbligazionisti truffati della De Iulemar, compagnia di navigazione, fallita nel maggio del 2012, mettendo in ginocchio l'economia della quarta città della Campania. Sostegno reso noto da Buonaiuto nel corso di un incontro con il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo e i consiglieri comunali di Torre del Greco, Vincenzo Salerno e Santa Borriello. Nei giorni scorsi era stata avviata sul territorio una raccolta firme con un gazebo a corso Vittoria Emanuele per promuovere la proposta di legge presentata da Gallo. Io ho portato in Parlamento una proposta di legge per accedere al FIR, il fondo per i risparmiatori che è stato creato dal governo Conte per i risparmiatori delle banche. La mia proposta è molto semplice, allarga la disciplina anche a chi è stato truffato, quindi con sentenze della giustizia che è stato truffato dalle aziende. La petizione come disciplina anche la Costituzione è una petizione che serve a promuovere in Parlamento e quindi in Commissione Finanze una proposta di legge, una discussione su questo tema. Nella scorsa legge di bilancio con l'ex sottosegretario del Ministero della Finanza Economica avevamo già analizzato tecnicamente che il fondo può essere capiente anche per i risparmiatori truffati. Qualora il governo quest'anno decidesse che il fondo non è capiente si può creare un fondo ad hoc. Siamo soddisfatti, commenta il deputato, del pieno sostegno del sindaco di Ercolano e vice presidente dell'Anci, che sentirà anche esponenti del suo partito come Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera, per sollecitare la proposta che in poche ore ha già raccolto 400 firme di cittadini della provincia di Napoli. Il crack dei Ulemar resta ancora una ferita aperta per la nostra comunità. Le parole di Ciro Buonaiuto, il governo non può restare sordo al grido d'allarme che arriva dalla nostra comunità. Bisogna mettere in campo tutte le azioni possibili per estendere la garanzia prevista per i risparmiatori dalle banche anche ai truffati dalle aziende.